Il portale culturale partecipativo Valledellamaseno.it è un progetto finanziato dalla Regione Lazio, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Laboratorio Geocartografico Giuseppe Caraci dell'Università degli Studi di Roma 3. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di elaborare una metodologia per la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio locale, materiale e immateriale, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali in tutte le fasi del progetto. Il caso di studio scelto è la Valle dell'Amaseno, che si trova nella Regione Lazio, tra le province di Latina e Frosinone. Si tratta infatti di un territorio con un grande patrimonio storico-culturale ed archeologico ed una ricca biodiversità. La prima fase del progetto è stata dedicata all'analisi delle dinamiche evolutive e dei processi di territorializzazione, attraverso l'uso delle fonti geostoriche. Particolare attenzione è stata dedicata alla cartografia storica, che ha fornito una chiave di lettura strategica per decifrare la complessità culturale e paesaggistica del territorio in esame. Le fonti di archivio sono state poi integrate con la ricerca sul campo. Attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione geografica è stato censito il patrimonio storico-culturale e naturalistico e tutti i servizi turistici potenzialmente utili a un viaggiatore. Per promuovere la fruizione del territorio è stata elaborata una rete di itinerari ecoturistici, strumenti culturali che aiutano il viaggiatore a conoscere e riscoprire in modalità lenta e profonda il territorio. Attraverso il lento procedere dello spostamento a piedi, l'uomo sviluppa gradualmente un profondo senso di responsabilità e cura verso il territorio, quella che il geografo cinese Hi Fu Tuan definisce topofilia, un legame affettivo tra i luoghi fisici e gli uomini, da cui è possibile cogliere il genius loci. I dati acquisiti e rilevati sul campo sono stati analizzati ed elaborati in formato digitale in un sistema informativo geografico e successivamente sono stati trasferiti sul portale culturale partecipativo valledellamaseno.it. Per rendere questo strumento più coinvolgente e interattivo è stato realizzato un web GIS in cui è possibile avere informazioni dettagliate sui borghi della valle, come raggiungerli attraverso trasporti pubblici sostenibili, informazioni sul patrimonio naturalistico e anche su quello archeologico. Sono stati inseriti anche tutti i punti di interesse, le attività commerciali censite sul campo e la rete di itinerari elaborata. Per ogni itinerario è possibile consultare una dettagliata scheda tecnica e descrittiva. Tutto questo materiale è possibile scaricarlo gratuitamente sul proprio pc. Infine sono state georeferenziate alcune carte storiche per offrire agli utenti la possibilità di poter analizzare le trasformazioni attuate sul territorio nel corso dei secoli. Questo portale rappresenta uno strumento culturale dinamico attraverso cui promuovere i valori della mobilità sostenibile, valorizzare il patrimonio esistente e proporre nuove modalità virtuose di fruizione del territorio. Grazie per la visione!